Per regolare i loro conti di partito, conti che non tornano dopo le elezioni regionali, il PD di Fanno invece di governare la città sta utilizzando tutta la sua forza per imporre al sindaco Massimo Seri il settimo assessore e sistemare così gli appetiti di tante bocche da sfamare. È il pensiero dei consiglieri di progetto Fanno Alberto Santorelli e Aramis Garbatini che consigliano al primo cittadino di destinare quelle risorse economiche ad altri settori che necessitano di interventi ben più importanti. Ha detto che secondo lei il sindaco è ostaggio del PD, per quale motivo? Perché il PD sta cercando di imporgli la nomina del settimo assessore in giunta, quindi si è aperta una faida interna alla maggioranza dopo le elezioni regionali, è chiaro a tutti ormai il litigio in corso tra il PD, il sindaco e la lista civica del sindaco. Questo è inaccettabile perché solo un anno di distanza dalla loro elezione è finito di dare la colpa agli altri e chi li ha preceduti rispetto alle inedempienze di questi mesi. Hanno incominciato una grossa lotto interna di potere, diciamo di fronte invece a una città che va governata, va amministrata. E quindi il PD farebbe bene a sfruttare, usare la propria forza per governare la città invece di imporre al sindaco delle scelte che non possono essere condivisibili. 40 mila euro oggi per un altro assessore è uno schiaffo a tutte quelle risposte non date in questi mesi in cui dicevano e hanno detto che non c'erano soldi, dalle manifestazioni estive al degrado della città, al sociale, al turismo e agli incentivi che potrebbero dare anche ai giovani in termini lavorativi. Quindi è una scelta che chiediamo al sindaco di non prendere e quindi di liberarsi dall'essere ostaggio del PD. Ricordando poi le varie tappe del giro del degrado intrapreso dal PD quando a governare Fanno era la giunta di centrodestra, Santorelli ha preso l'esempio del tendone della tensostruttura strappato in zona Sassonia. Garbatini invece si è soffermato sulle spiagge libere all'Arzilla che presentano fango, erbacce, detriti, buche e avvallamenti pericolosi. I consiglieri chiedono quindi all'amministrazione di riattivarsi subito per risolvere questi problemi nel rispetto di cittadini, turisti e operatori. economici.